Amici, lascene non ben tornati fra i dati dell'Olimpico, oggi siamo qui in un nuovo pre-partito prima di cominciare il video subito da lasciare un bel mi piace, un bel mi piace mettete pausa, andate a mettere subito un bel mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale cerchiamo di raggiungere 60 iscritti, mi raccomando, quindi iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella, se vi va se non volete avere scocciature, iscrivetevi e basta, a me fa piacere e ragazzuoli Lazio Inter, Lazio Inter fa paura, fa paura, però c'è un briciolo di ottimismo, perché perché comunque abbiamo visto che a Cagliari è andata bene con l'Atalante è andata bene, soltanto hai concesso 5 tiri e 4 te ne hanno buttato in rete e comunque hai giocato molto bene, secondo me tatticamente parlando, poi ovviamente che ci sono degli errori individuali che poi ti penalizzano, tipo Marusic ha sbagliato quelle due marcature che poi hanno determinato due gol e se quei due gol non li prendevi magari avevi il morale un po' più in alto avete visto anche sul 3 a 1 mancava poco, facciamo il 3 a 2 quindi magari se era un 2 a 1 magari facevi il 2 a 2 comunque c'era più tempo e più testa per riuscire a raggiungere il 2 pari quindi quei due gol un po' per errori individuali di Marusic l'abbiamo pagati insomma quindi però abbiamo giocato bene quindi se oggi riusciamo a giocare ancora meglio e dalla conferenza stampa di Inzaghi che ho sentito la volontà c'è ora bisogna vedere se la fanno poi pure in campo secondo me possiamo fare una bella figura e non lo dico, l'avete capito provare nel tozzitto e ragazzuoli c'è Fares in panca finalmente uno è vero che c'erano anche Escalante e Hack Pack Pro però Escalante e Hack Pack Pro sono più appunto panchinari che poi faranno subentrati mentre magari Fares può diventare titolare come lo stesso Murici se va via Caicedo per esempio e comunque anche si scambia con Correa è più è raro che non entri il Murici insomma mentre Escalante e Fares e Escalante e Hack Pack proventano per necessità metti che sono gialli sono stanchi è un po' come appunto sostituti poi abbiamo anche Pereira che comunque si sta allenando ora vediamo se riuscirà a entrare in squadra diciamo nelle partite e Murici ora deve scontare la giornata disqualifica che ha ricevuto in Turchia da qualcun capito quindi in teoria per la prossima dopo la sosta dovrebbe essere c'è anche questa cosa dalla sosta che palle manco abbiamo iniziato già c'è stata la sosta ragazzuole oggi comunque la partita non sarà semplice per niente perché l'Inter da qualcun capito recupera pure Vidal e quindi sarà tosta perché l'Inter c'è una squadra di fenomeni in teoria pure noi però non lo sappiamo ecco noi abbiamo una squadra di fenomeni ma non lo sappiamo siamo come quegli studenti che sono bravi ma non si applicano insomma non so quante volte avrete sentito sta frase associata alla Lazio però insomma è vero perché cioè se vai a guardare i calciatori nostri cioè Luis Alberto Milinkovic Lucas Leiva Immobile Acerbi comunque cioè Lazari che comunque il suolo fa e cioè comunque sono giocatori di livello che però non lo sanno e non si applicano quindi ragazzuoli oggi meno ansia forse dell'Atalanta perché l'Atalanta si sa che è tosta l'Inter comunque ha visto che te la sei sempre un po' giocata e comunque c'è l'ansia c'è c'è sempre perché non ti sa mai e questa è una partita non dico fondamentale però ci sta perché abbiamo visto anche l'anno scorso come se perdi le prime partite poi ti mozzichi le dita alla fine perché anche l'anno scorso se non perdivi con la spazia non pareggiavi con il Bologna se non pareggiavi con la Roma all'andata che le hai presi appallonate ma cioè non dico arrivare prima però almeno secondo tipo perché quei punti poi alla fine ti proiettavano più in alto e e quindi insomma cerchiamo anche con le big di fare punti per salire e soprattutto levargli i punti e e oggi diciamo è fondamentale vincere io penso ci sia la live reaction registrerò dopo cerco di montarvela oggi pomeriggio così tra stanotte a mezzanotte sapete che io a volte monto di sera appena monto lo pubblico così la mattina dopo ce l'avete già perché poi magari la mattina mi alzo tardi me ne scordo appunto domani mi rinizio la settimana scolastica quindi magari mi passa quindi naturalmente oggi lo monterò nel pomeriggio e poi stasera ve lo pubblicherò e niente ragazzuoli noi ci vediamo appunto stasera no verso le 5 il pomeriggio per il post partita di Lazio Inter speriamo che non sia una smadonne ma soltanto gioia ciao ragazzuoli ci vediamo dopo sempre forza Lazio dai dove sta mi è stato scurito tutto lo schermo non vedo più dove è il pulsante questo è un problema eccolo ciao ragazzuoli sempre forza Lazio ciao